Il futuro del territorio e degli ospedali di Fossombrone, Caglie e Pergola sarà il tema al centro dell'incontro pubblico con i candidati alla presidenza della Regione Marche. L'appuntamento è previsto per giovedì 16 aprile alle ore 20 e 45 al Palazzetto dello Sport di Fossombrone, un modo questo per sensibilizzare il mondo politico e l'emergenza dei servizi sanitari. Abbiamo una situazione molto difficile in tutta la provincia con 2,7 posti letto per 1.000 abitanti, un posto letto in meno rispetto alla media nazionale e regionale e nell'entroterra scontiamo ancora di più questo gap per cui sono notevoli i disagi. A dare l'adesione per ora sono stati il candidato del Movimento 5 Stelle Giovanni Maggi, Edoardo Mentrassi di Selle, Luca Ceriscioli del PD e Luca Rodolfo Paolini della Lega Nord, mancherebbe quella del presidente uscente Gianmario Spacca. Abbiamo predisposto delle domande e le abbiamo già inviate, anticipate in maniera tale che, siccome l'argomento è abbastanza complesso, in maniera che possono prepararsi e dare delle risposte più convincenti ai cittadini. Un altro obiettivo dell'incontro sarà quello di unire le forze locali. Quest'unione è rappresentata dai sindaci, ci sono gli 11 sindaci in trincea, alcuni interverranno e uno trarrà anche delle conclusioni per cui abbiamo riservato una parte importante anche a loro. Poi le associazioni come la nostra, come l'articolo 32 ONLUS e le altre realtà sul territorio, i comitati, i movimenti eccetera. Quindi cerchiamo di unire il territorio sia da un punto di vista logistico con la partecipazione di tutti i sindaci, sia da un punto di vista delle varie componenti che costituiscono la società.